Per me è positivo perché credo che nelle fasi più dure che ha affrontato la nazione, l'Europa, il mondo e quindi anche l'abruzzo della pandemia, noi abbiamo avuto una buona capacità di reazione sia in termini di assistenza sanitaria che di assistenza a tutti i settori economici che soffrivano. La Regione chiude questa esperienza di legislatura solida dal punto di vista finanziario e devo dire che il Consiglio regionale a mio avviso è stato il cuore di questa legislatura, ha approvato tante riforme strutturali. In questo ultimo anno, il 2023, ma si sapeva che saremmo giunti a conclusione di alcuni dossier importanti, voglio solo ricordare il testo unico per la cultura, la nuova legge urbanistica, la rete sanitaria, la finanziaria, la legge di stabilità, il bilancio triennale e tutte le altre leggi che poi cercheremo di elencare più diffusamente durante la conferenza STAP.